Cosa stai mettendo Giulia? Blush Che brava Dodo mio amore deve essere abbronzatissimo È bello Certo Ma come sto venendo? Bello? Bello, guarda, proprio bello davvero Da chi si sottopone alla tortura si fa per dire di farsi truccare A chi invece pubblica un tutorial sui social per realizzare un lavoretto per il proprio babbo Gli aretini sono stati in tanti ad inviarci i loro video per fare gli auguri appunto a tutti i babbi Che in questo momento stanno festeggiando questo 19 di marzo 2020 tra le mura di casa Mettiti su Oddio, grazie Vai Fede, digli anche quello che gli devi dire Papà, cammina dritto, cerchi di non spandare perché sui tuoi fronti io devo camminare Sono gli eroi dei nostri giorni, tutti i babbi, tutti i papà che sono in casa in questo momento con i loro figli Ma soprattutto a coloro che invece purtroppo oggi sono divisi A loro vanno i nostri migliori auguri e ovviamente anche il pensiero che tutto questo passerà Grazie, bulla non balzo Grazie, bulla non balzo